Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Siamo in attesa della celebrazione del Natale, ma lo Spirito di Gesù è già presente in mezzo a noi. È lo Spirito Santo, fratelli, che ci rivela Gesù. Ed è lo Spirito Santo il dono che Gesù è venuto a portare all'umanità. Con la sua venuta su questa terra venne l'amore e l'uomo amò. Ci dice l'abbiata Elena Guerra e Santa Caterina da Siena ci invita ad accogliere lo Spirito Santo. Rivolgiamo al Padre questa preghiera della Santa, che era indirizzata a un suo figliolo spirituale. O amore dolce e carità inestimabile, tu sei ministro e servitore delle tue bellissime creature. O amore, o fuoco d'amore! Poiché dunque egli è il forte vestimento, che resiste ad ogni colpo, ed è veste di fuoco contro il freddo, è cibo contro il morire di fame, è letto contro la stanchezza. Ti prego, figliolo, in Cristo Gesù, di portarlo indosso virilmente. Egli è così dolce e compagno dell'anima, che sarà lui, giunti che saremo, al termine della vita, a farci riposare nel letto e mare pacifico della Divina Essenza, dove riceveremo l'eterna visione di Dio. San Paolo, anche lui ci invita, dicendo non contristate lo Spirito, camminate secondo lo Spirito, vivete secondo lo Spirito. Spirito Santo, noi ti invochiamo nella nostra vita. Spirito Santo, che esci dal cuore trafitto di Gesù, riembio oggi alla Chiesa, rinnovala come sposa innamorata di Cristo Gesù, sposo divino, venuto a dare la vita, a sacrificare se stesso, per condurre la sua sposa nella gloria, per riscattarla da ogni potere di male, per liberarla da ogni iniquità, per purificarla e santificarla, e condurla alla venezia della vita. Spirito Santo, vieni nella Chiesa, manifestaci Gesù presente in mezzo a noi, e rivelaci la sua venuta, e disponi i nostri cuori, e il cuore di tutta l'umanità ad accoglierlo, come Signore e Salvatore, come Re della gloria, che viene a portare la vita nuova a tutti gli uomini, a Lui gloria, onore, potenza e benedizione, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E noi col salmista, fratelli, vogliamo dire, cantiamo al Signore un canto nuovo, lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e dieci corde, a Lui cantate, cantate il Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del Suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che è il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come Sua eredità. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto, è il nostro scudo, è il Lui che gioisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome, noi confidiamo. E nella prima lettura di oggi, Fratelli, la Chiesa ci presenta due letture scelte, la prima dal Cantico dei Cantici. Perché? Perché il Signore della Scrittura definisce se stesso come lo sposo innamorato della sua sposa. E gli ebrei proclamano i versetti del Cantico dei Cantici il giorno di Pasqua per celebrare che nella Pasqua Dio, sposo del popolo, ha salvato la sua sposa, si è chinata sulla terra, ha sconfitto i suoi nemici, l'ha liberata e l'ha rinnovata. Perciò una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i mondi, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Cioè, è vivo, è scattante, è dinamico, non si addormenta. E nella seconda lettura del profeta Sofonia, è una lettura scelta, la Chiesa ci propone questo brano stupendo Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna. Perché ha mandato Gesù suo figlio? Perché ha tolto la tua condanna. Ti ama e vuole solo la tua salvezza. Guardate la pace che Dio stabilisce con noi in Gesù Cristo. Ha disperso il tuo nemico, re di Israele il Signore, in mezzo a te e tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme non temere Sion, non lasciarti cadere alle braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. gioirà per te, ti rinnoverà con il suo cuore, esulterà per te con grida di gioia. Guardate come queste profezie, fratelli, non si fermano a celebrare un evento storico particolare che poi si perde nella storia, ma una vita, un'epoca, un'esistenza. La terra è chiamata ad essere rigenerata. Ecco Gesù che viene, fratelli, non si limita a portare qualche dono, viene a rinnovare, a cacciare il nemico dell'uomo dalla faccia della terra. E ripetiamo sempre, come ci insegna San Paolo, l'ultimo nemico da essere annientato sarà la morte. Anche la morte viene sconfitta dal figlio di Dio, perciò esultiamo di gioia nel Signore Gesù. E il Vangelo ci ripropone il brano che la Chiesa ci ha dato da contemplare domenica scorsa l'evento della visita della Madonna Santa Elisabetta. Dopo aver accolto il saluto dell'Angelo, Maria si incammina, non sappiamo con quale modalità, certo il viaggio era lungo, ma c'erano delle carovane che andavano avanti e indietro e per paura dei briganti, eccetera, abitualmente ci si accolava delle carovane per essere protetti. E la Madonna arrivò da Santa Elisabetta e quando arrivò lei salutò Elisabetta che fu piena di Spirito Santo ed esclamò verso la Madonna benedetta benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta benedice Maria e benedice il frutto del grembo di Maria, cioè Gesù, benedice l'uno e l'altra. E a che devo che la madre del mio Signore è giunto venga da me? Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. San Paolo nel settimo capitolo della prima lettera dei Corinti ci ricorda che quando un bambino è concepito santamente è benedetto già dai genitori una volta in un convegno carismatico interconfessionale o una persona di un'altra chiesa rivolta a un sacerdote e va a dirgli ma perché voi battezzate i bambini se non sono in grado di comprendere il valore della grazia di Dio se tu hai un capitale lo puoi mettere in mano a un bambino che non sa apprezzare il valore di quel capitale e mi permise allora di intervenire dicendo ma non dice la scrittura che Dio ci ha amato dall'eternità e non dice la scrittura che il bambino è già benedetto e santificato nel concepimento dall'atto santo del dono d'amore del matrimonio e un ministro evangelico presente si rivolse all'amico e gli disse questa è parola di Dio non si discute cari fratelli Dio ci ha amato dall'eternità ma ha affidato anche all'uomo il dono di santificare e quindi giunge l'apostolo Paolo che quando il marito ama la sua sposa santamente la santifica se lei naturalmente accoglie la santità dell'amore del marito e altrettanto la moglie credente qualora abbia un marito non credente che però accoglie il suo amore santo viene santificato dall'amore e dalla moglie ai genitori santificano i figli e ognuno di noi fratelli è chiamato a santificare il suo prossimo quando tu incontri una persona prima di guardare che interesse che vantaggio quale profitto ne puoi trarre da quell'incontro benedicila nel tuo cuore Vergine Santissima tu hai benedetta Elisabetta che esplose nell'inno di lode benedetta tu fra le donne e tu hai proclamato la lode del Signore l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome insieme a te oggi vogliamo ripetere queste parole grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome grandi cose sta facendo per noi l'Onnipotente perciò dal nostro cuore sgorga quel canto di lode che è semplice e brevissimo alleluia 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 e che questa lode fratelli risuoni nel vostro cuore nella vostra mente e sulla vostra bocca e la lode a Dio non cessi mai di essere innalzata perché chi mi offre un sacrificio di lode questo mi onora ci dice il Signore per mezzo al salmista e tu vertiene Maria donaci di lodare Gesù tuo figlio con tutto il nostro cuore e di comunicarlo con la carità con la benevolenza col perdono con la misericordia col servizio col sacrificio andandone contro l'altro cercando prima di soprattutto la gloria di Gesù in quella persona e la salvezza di quella persona a Gesù salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli Amen e voi genitori in modo particolare siate per la vostra famiglia nelle mani del Signore strumento di benedizione per i vostri figli e per quanti frequentano la vostra casa Amen